Uno spettacolo unico, un'atmosfera che unisce fede e tradizione. Ecco la magia dei tappeti di segatura di Camaiore, l'antichissimo evento legato alla festa del Corpus Domini. Tema di quest'anno, scelto come sempre dalla parrocchia di Santa Maria Assunta in Camaiore e assegnato ai gruppi che compongono l'associazione Tappeti di Segatura, era il centenario dell'apparizione di Fatima. I vari tappeti, chi in modo chiaro e didascalico, chi ricorrendo a metafore e richiami letterari, hanno così declinato lo stesso tema nelle sue diverse sfaccettature, offrendo al visitatore 19 tappeti distinti, ma un'unica grande storia da leggere collettivamente e un grande spettacolo. Dopo otto anni di assenza di competizione, la giuria tecnica ha scrutato e valutato a notte fonda e di nuovo domenica mattina le magnifiche ed effimere opere d'arte. E dall'incrocio delle schede e dei singoli giurati, il primo posto è stato assegnato a pari merito al gruppo di Greenaway e alle scuole medie Pistelli. Secondo posto per Palinsesto, mentre al terzo posto, anche in questo caso con un exequo, la Torre e Sesto Lucchese. Tutti i gruppi hanno cominciato i loro lavori tra stampi e disegni tre, quattro mesi fa, per arrivare domenica notte alla realizzazione di questi lunghi tappeti di segatura colorata, opere d'arte effimere cancellate domenica mattina, poco dopo le 10, dal passaggio della processione per il Corpus Domini, guidata dal Vescovo di Lucca Italo Castellani e dal parroco di Camaiore Don Andrea Ghiselli.